Ecco consiglio di oggi, innamoratevi dei mercatini dell'usato. I mercatini che propongono articoli di seconda mano comprendono tantissime categorie, vestiti, mobili, libri, giocattoli, casalinghi e molto altro ancora. Ma vi chiederete perché devo comprare un oggetto usato anziché prenderlo nuovo? Per quattro motivi principali. Uno, perché si risparmia economicamente. Nel senso che gli oggetti di seconda mano costano molto meno rispetto agli oggetti nuovi. Due, perché l'ambiente ci ringrazia. Nella catena produttiva di ogni oggetto infatti vengono impiegate tantissime risorse come materie prime, acqua, energia eccetera. Tre, perché nei mercatini dell'usato è molto più facile trovare oggetti di qualità. Se ci pensate bene, quante volte dopo poco tempo da un nostro acquisto l'oggetto si è rotto, rovinato, sgualcito, scolorito, scucito. Questo perché la qualità e la fattezza di quell'oggetto non era eccellente. Nei mercatini dell'usato invece troviamo oggetti ancora in ottimo stato, nonostante siano passati un po' di anni. Questo perché sono di ottima qualità e fattura. E quattro, perché aiutiamo notevolmente a diminuire i rifiuti. Anziché buttare una cosa solo perché è stata usata, certe volte anche molto poco, questa può essere recuperata e può essere ancora utile. Negli ultimi mesi ho creato un piccolo angolo dell'usato anch'io nel mio negozio e l'ho chiamato l'ecomercato, dove si possono trovare ancora cose molto utili per la casa, per la persona, per i bambini e a piccolissimi prezzi.